E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, un saluto da Federico Zanone, benvenuti a Cagliari, Roma, partita che vale la trentasesima giornata di campionato. E' una notte che significa molto per il Cagliari, scopito cinque volte nell'ultime sette, scivolato al terz'ultimo posto, a meno uno dalla salvezza per la Roma, che sente il fiato sul collo dell'Inter e non può perdere punti in chiave Champions. Insomma c'è tanto da dire in questa partita, entrambe le squadre non possono assolutamente fallire. Di bello, sistema il cronometro, fischia, è partito il match, è iniziata Cagliari-Roma. Prova a mettersi in moto Farias, la difende sull'attacco di Bruno Perez. Farias, punta la porta, Farias, palla sul destro, Farias! Sul fondo, non trova i pali di Alisson, ma che occasione per il Cagliari. Quando vede la porta Farias è sempre estremamente pericoloso. Gonalon trova Gerson, in ero di rigore. Gerson, un calcio con il sinistro, un assist! Il salvataggio di Licoiannis su Hunder. Lo stesso Licoiannis che resiste e riparte. Il pallone verticale per Farias che non riesce a tenerla in campo. I coiannis in copertura, Hunder, le finte, prova a piazzare il sinistro! Hunder! E avanti la Roma con un gol splendido di Hunder! 15 sul cronometro! Il ritorno alla parte di Capradosi, poi unita alle cross, palla che passa! Alisson! Altro privido per la Roma! Tagliola, calcia! Ancora vicino al gol in Cagliari! Si riparte! Pallone verticale per Farias, esce Alisson, Farias lo supera, Farias! Capradosi salva, poi Fassi, ancora Farias! E calcio all'angolo per il Cagliari che è iniziato subito con il piede sull'acceleratore! Farago in verticale per Farias, posizione regolare, Farias davanti Alisson, Farias! Non ci credo, sbaglia il controllo decisivo! Gran palla di Farago, posizione regolare di Farias! L'occasione per il Cagliari, cercato Farias, l'errore di Florenzi, Farias! Colarov, con un intervento che vale un gol! Un intervento che vale un gol di Colarov! C'è Pitelli! Cercato Sau, Colarov a vuoto! Sau davanti a Alisson! Sau! Alisson! Salva ancora la Roma! Arriva il cross, deviato! Poi De Iola! L'intervento di Gerson si gioca con il Farago che va al cross! De Rossi salva! Ancora Gerson! Non c'è più tempo! Ecco la parola alla fine! Vince la Roma! 1-0!